sai che cosa penso che non dovrei pensare che se ti penso fosse un animale che se ti penso tu sei un animale e forse questo temporale che mi riporta da te e lo so non dovrei farmi trovare senza un ombrello anche se ho capito che per quanto è fuga torno sempre in te che fai rumore qui e non lo so se mi fa bene col tuo rumore mi conviene ma fai rumore si che non lo posso sopportare questo silenzio naturale tra me e te e me ne vado in giro senza parlare senza un posto in cui arrivare consumo le mie scarpe forse le mie scarpe stanno bene dove andare che mi ritrovo negli stessi posti i stessi posti che dovevo evitare e faccio finta di non ricordare e faccio finta di dimenticare ma capisco che per quanto è fuga torno sempre in te che fai rumore qui e non lo so se mi fa bene se giuro rumore mi conviene ma fai rumore qui e non lo so se mi fa bene se giuro rumore mi conviene ma capisco che per quanto è fuga non fai rumore qui e non lo so se mi va bene questo silenzio è naturale e non lo voglio fare a me non amare di quel bellissimo rumore che fai qui 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 una canzone che sapete è un successo mondiale ha vinto Sanremo quindi insomma il grande diudato quindi vi invito ad ascoltarla perché davvero a me suscita sempre tante emozioni vi ringrazio come sempre tanto per il grande supporto che mi state dando e quindi quando mi fate una richiesta non posso assolutamente chiesivermi dal contentarvi quindi davvero grazie, 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 grazie come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto attivare la campanella, mi guardate che facciatevi se vi trovate qui c'è un nuovo video, tanti pollici in su fatemi sapere se questa canzone mi piace, se l'ho interpretata bene che cosa ne pensate, cosa ne voleste, se la voleste risentire come la vorreste risentire se magari la cantate anche voi fatemelo sapere qua sotto, sui commentini e mi raccomando non dimenticate di iscrivermi al mio canale come si fa? ci si iscrive in maniera gratuita sottolineo questo concetto, questo principio fondamentale e come si fa? qui sotto di me c'è un pulsante questo è scritto iscriviti rosso come me oggi sono rossa quindi voi lo pigiate, da rosso lo fate diventare grigio con lo stesso principio attivate la campanella in modo tale che una notifica, una piccola notifica vi avvertirà tutte le volte che esce un nuovo video condividete questo video importiamo la musica, la musica bella la musica quella che ci fa battere il cuore vi ricordo come sempre che sono assolutamente raggiungibilissima su tutti i social media facebook, tiktok pagina instagram, pagina facebook che sta avendo tanto successo il mio indirizzo di posta elettronica che vedete qua sotto quindi mi raccomando aspetto la vostra lettera per postare il cuore un'altra rubrica che tanto e tanto vi piace come sempre vi ricordo anche di sostenere il mio canale condividendo i video e come sempre vi ringrazio vi ringrazio di cuore per sintonizzarvi perché vi sintonizzate tutti quanti siete proprio puntuali ogni venerdì alle 18 perché i miei video sono puntuali ogni venerdì alle 18 ragazzi cresciamo sempre di più ormai ve lo dico ve lo dico e sono davvero tanto tanto contenta la musica è una grande terapia se poi alla musica ci volete anche aggiungere la poesia è un'altra mia grande passione sapete che la poesia è una delle mie passioni una delle più grandi beh ci potete aggiungere il mio libro isola che è sempre qua tanto a me l'abbiamo riassortito perché sta avendo davvero tanto successo io non so più come dire perché sono veramente contenta molto 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 contenta di tutto ciò che sta accadendo e tante altre cose accadranno ragazzi vi ringrazio di cuore oggi non ho chiamato la mia cara Sicla perché oggi lo mandate in vacanza oggi è in vacanza siamo insomma in vacanza per i due anni di vacanza quindi non posso farla lavorare anche oggi quindi lei la manda in vacanza io invece sono qui sempre accanto a voi qui con voi mi raccomando fatemi sapere quali sarebbero le altre canzoni che tanto volete voleste che io insomma interpreti per voi e quindi vi aspetto venerdì prossimo puntuali perché come sempre vi ricordo che con Samu in cucina ogni canzone è una canzone divina mi raccomando vi aspetto venerdì vi voglio bene ciao